E ora torna invece la nostra altra Silvia, Silvia Alonso, con la sua rubrica Un giallo per amico. Sentiamo di che cosa ci parla quest'oggi. Io lo chiedo, che Nadia mi me diga che tu dulce vita vos già me has arrancato. Mi corazón una mentira pide per esperarti un impossibile llamado. Io non chiedo che Nadia si immagine come è di amarga e onda mia eterna soledà. Passa la noce e il minutero muole la pesadilla di suo lento tic-tac. È una strofa, una letra di un tango argentino, un tango di Carlos Gartel. E proprio da questa solitudine, da questo tic-tac delle ore che passano inesorabili, prende spunto l'autore di oggi e soprattutto il titolo. Sto parlando di un mosso sacro, un mosso sacro per la letteratura italiana in generale e per il giallo in particolare. E tutto era iniziato nel 1931, col primo libro della serie di questo commissario. Quando lui ancora era giovane, la sua solitudine già lo accompagnava. E questo è l'ultimo libro della saga, si ambienta proprio prima di Natale. Un Natale molto particolare, un Natale del 1939. Siamo alla vigilia della guerra e il nostro protagonista sta vivendo una situazione di solitudine molto particolare. Sto parlando del commissario Ricciardi, di Maurizio De Giovanni, il suo autore, un mostro sacro, diceva, della letteratura, e dell'ultimo libro della serie, Soledad. Senso del dolore. L'inverno, il primo inverno del commissario Ricciardi, mette in scena un uomo molto particolare, un commissario che ha delle caratteristiche strane. Si sente un anti-eletto, lui porta una croce, qualcosa che lui sente come una condanna, che viene chiamato il fatto. Il fatto di riuscire ad avvertire la voce delle persone che vengono ammazzate, ovviamente, quindi muoiono di morte violenta, le loro ultime frasi. E ne sente su di sé il carico, la sofferenza. Sente anche le persone che muoiono in generale di morte violenta, i bambini magari per la strada, che hanno avuto degli incidenti. Quindi questa vita affollata da fantasmi fa di lui un eroe particolare, un eroe che porta su di sé il carico della sofferenza. E si sente condannato a non poter amare, perché per lui la causa del crimine, le cause del crimine sono due, l'amore e la fame. L'amore e la fame sono le principali cause da cui nasce tutto, da cui nasce la criminalità. E lui vuole scappare da questo mondo. In realtà si sacrifica perché mette a servizio il suo intuito, il suo dono molto particolare, lo mette al servizio della giustizia. Però è un intuito che tante volte è infido, lui sa che non può fidarsi totalmente del fatto. perché non sempre le voci che sente sono razionali, possono essere delle esclamazioni, qualcosa può essere detto in tono ironico. A fargli da scudiero un po' il sacciopanza della situazione, soprattutto da alleviarne le sofferenze, è un amico inseparabile, è un collega inseparabile, Maglione, che tra i due c'è un legame molto forte, non solo di lavoro, ma anche un passato legato al figlio di Maglione, che fa il poliziotto come il padre e che perde la vita durante il lavoro. Ma passiamo al libro di oggi, Soledad, la chiusura del cerchio. Chi ha seguito la serie del commissario sa le vicissitudini soprattutto amorose, perché lui è di origini nobile, è charmant, e nonostante sia un grande introverso, le donne sembrano perdere la testa per lui. Alla fine lui riesce in qualche modo a innamorarsi, a lasciarsi andare per la grande storia d'amore per questa donna, la sua vicina di casa, che sta alla finestra di fronte, Ricca, il cui ricamo gli concilia veramente la pace, lo mette in pace col mondo. Ma passati tanti anni, ripeto, siamo alla vigilia della seconda guerra mondiale, nel 1939, sono state già varate le prime leggi razziali, le cose sono cambiate, e Ricciardi si sente prevalitare dalla solitudine. Il perché, non ve lo dico, dovete scoprire leggendo la serie. Ma quello che posso dirvi oggi è che questo romanzo è un romanzo particolare, perché a differenza di tutti gli altri della serie di Ricciardi, si caratterizza dal fatto che è un romanzo da De Giovanni stesso, definito corale. Corale perché i personaggi entrano a tutto tondo nella narrazione, a ognuno di loro De Giovanni ha dedicato più capitoli, è riuscito a mettere in risalto la vita di tutti i sottoportagonisti, fino a dare voce addirittura a personaggi non solo come Maglione, che cresce, ma anche come alla prostituta, che fa spalla a Maglione, bambinella, ma così anche come il vicequestore, con cui c'era sempre stato un rapporto conflittuale, perché era forte coi deboli e deboli coi forti, che invece avrà una crescita particolare nel romanzo e prenderà posizione, soprattutto dal punto di vista della situazione politica, molto forte. E' questa malinconia che avvolge tutto il romanzo, una malinconia che permea la narrazione, ma per contrasto emerge, sì, la solitudine di Ricciardi, ma anche mai, come in questo romanzo, è vicina e presente la figura di Enrica, il grande amore che lui non vuole sostituire. Si decide quindi a tenerla come una figura sempre eterna, tanto più che appunto lui, avendo questa sensibilità particolare, la sente proprio vicino a sé. Allora, nell'augurarvi un buon Natale, io ricordo questo mostro sacro della letteratura, questo grandissimo scrittore che ti entra nel cuore, te lo strappa, capace di parlare all'animo di tutti noi. E infatti lo abbiamo amato anche nella serie televisiva, interpretata da, magistralmente, da Lino Guanciale. Vi consiglio quindi l'ultimo libro di Maurizio De Giovanni, Soledad, e facendovi gli auguri vi invito alla prossima puntata che sarà a gennaio di Un Giallo per Amico, io e la mia pistola. Grazie a tutti.